ariete momento decisamente propizio non soltanto per gli affetti ma anche per tutto ciò che riguarda lavoro e professione prendete dunque senza esitazione tutte le iniziative che credete più opportune toro qualche nuvola in campo familiare certe tensioni minacciano non solo di affiorare ma anche di creare veri problemi a patto che voi non interveniate subito affrontando le di petto decisione e dolcezza se sono invece coinvolti i figli gemelli giornata in cui le stelle vi sorridono e vi riservano più di una bella soddisfazione godrete di simpatia e di un notevole successo personale sarete i protagonisti questa sera sia tra gli amici che con il partner cancro stelle e sornione oggi con voi e voi invasi da dolce pigrizia che invece dovreste vincere se volete davvero raggiungere certi traguardi comunque tra l'eccessiva svogliatezza e il massimo impegno scegliete una via di mezzo leone le vostre cose sono avviate sui giusti binari stanno procedendo discretamente bene se volete che vadano meglio basterà che ci mettiate un pizzico in più di determinazione la situazione appare comunque stimolante vergine un problema ci sarà ma quasi contemporaneamente ne individuerete le misure per arrivare ad una rapida quanto soddisfacente soluzione serata ricca per i sentimenti bilancia stelle promettenti per cui la giornata si profila positiva a voi si richiede soltanto di impostare correttamente le vostre occupazioni le vostre inconvenze attenzione non è giunto il momento di scoprirsi con una persona scorpione molte cose bollono in pentola preparatevi a far fronte alle necessità che una tale situazione impone situazione improvvisamente instabile con il partner forse avete compiuto qualche mossa sbagliata sagittario le stelle oggi saranno buone con voi per ciò che riguarda il settore economico finanziario facilmente porterete in porto le iniziative e i contratti che vi premono meno facile anzi piuttosto tribolato il settore amore affetti capricorno giornata di splendida routine non vi annoierete perché molte saranno le cose da seguire anche se piuttosto piccole non sempre il vostro motore può girare al massimo ore di bella serenità questa sera con chi amate acquario bussate e vi sarà aperto oggi le stelle intendono favorirvi al massimo per cui dateci dentro che a questioni in sospeso e controversie cerchi di arrivare al dunque favoriti in particolare i viaggi e gli spostamenti durante il weekend pesci buona giornata in linea di massima anche se potrete inciampare in un grosso contrattempo non fatene un dramma sempre contrattempo è e non certo disgrazia dite no questa sera a un invito contiene molti pertegolezzi che non dovete nemmeno ascoltare